La cultura ha un valore se rafforza la coscienza civile, se definisce un'idea di relazione col mondo e con gli altri. La potenza del teatro, come del cinema, come della letteratura, è quello proprio di metterti in relazione con gli altri, farti sentire dentro un destino collettivo, vivere uno spirito di comunità, occuparti dei destini che non sono esclusivamente i tuoi, avere consapevolezza di sé anche in relazione agli altri. E quindi credo che il valore dell'iniziativa che le amministrazioni pubbliche in Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese insieme ai comuni, porta avanti in sera, chiuda questo straordinario sforzo. È una sfida, soprattutto in una regione come la nostra, nel Mezzogiorno d'Italia, che, come i dati Istat ci confermano dolorosamente, ha molto da recuperare in termini di consumo culturali.